Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza mai citare Switch 2. Ops. Si è appena concluso quello che pensiamo essere l'appuntamento finale dedicato a Nintendo Switch e vorrei analizzare in questo video ricchissimo l'accoppiata Indie World e Partner Showcase, due eventi minori, raccorpati in uno solo, che però per molti non sono riusciti a rispettare delle aspettative già basse. Possiamo quindi parlare del peggior direct di sempre? Per me sì, ma anche no. Ora vi spiego perché, intanto però come al solito sapete cosa fare, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi gli sordi. Bene, io ho detto tutto, inittazziamo! Parto col dire che secondo me qualche annuncio interessante c'è stato, ma l'evento mi ha dato proprio l'impressione di essere un tappabuchi, un fuori tutto pensato per togliersi gli ultimi invenduti dall'inventario per fare spazio alla nuova collezione in arriva breve. Sì, insomma, l'avere anticipato ad agosto di eventi del genere e averli riuniti in un'unica presentazione già è un bel indicatore di quanto Nintendo ci credesse poco nell'Indie World e nel Partner Showcase. Questo nome in particolare non dimentichiamoci che è nato associato ad alcune delle presentazioni più deludenti di sempre. Chi c'era nel 2020 si ricorderà benissimo dell'orrore associato ai Partner Direct. Quindi la forma non ha aiutato di sicuro a vendere bene il contenuto e aggiungo pure che forse c'è stata troppa, troppa roba in questi 40 minuti e tanti di questi annunci non erano di certo memorabili. Insomma, sebbene la durata complessiva sia stata poi alla fine quella di un Nintendo Direct a tutti gli effetti, il risultato finale è stato molto lontano in termini qualitativi rispetto a una presentazione a tutto tondo. Vi dico però secondo me quello che vale la pena tenere d'occhio partendo dall'Indie World e poi alla fine vi dirò anche qual è il mio giudizio finale. Non vi ho mai nascosto che Balatro è diventata la mia droga del 2024 e vedere annunciato il DLC gratuito ha fatto sì che l'Indie World iniziasse nel migliore dei modi. Aggiungeteci pure che si tratta di un crossover pazzo con alcune IP altrettanto importanti, Vampire Survivors rimane un orgoglio tutto italiano e per me si è trattato dell'apertura perfetta. Anche Neva si è mostrato in splendida forma e gli autori di Grease sembrano voler riproporre una formula vincente che questa volta però ha un art style che, seppur molto grottesco, ricorda un po' le produzioni dello studio Ghibli. Il 15 ottobre poi è dietro l'angolo. Purtroppo lo stesso non si può dire di progetti altrettanto interessanti come l'RPG Moth Cubit e il folle Morsels, forse questo è uno dei punti massimi dell'Indie World, che purtroppo però sono previsti per il 2025 in altrato. Idem per il DLC gratuito di Sea of Stars, che arriverà solo il prossimo anno. Si tratta insomma di attese molto importanti, soprattutto se pensiamo che per quando questa roba uscirà saremo già tutti belli concentrati sull'imminente uscita di Switch 2. Console che è diventata simbolo di una next gen di cui si sente sempre più il bisogno e continuerò a ripeterlo fino allo sfinimento. La qualità grafica del DLC di Power Wash Simulator e di Wobbly Island è solo la punta dell'iceberg di un problema che avremo modo di affrontare più avanti quando passeremo in rassegna il Partner Showcase. Chiudiamo però con un annuncio che è una mezza bomba, un titolo attesissimo, peccato solo che arrivi leggermente fuori tempo massimo. Finalmente arriva su Switch, in esclusiva console, Pizza Tower, titolo finora disponibile solo su PC. Alla fine, sebbene non sia stato possibile coinvolgere qualche studio esterno in una collaborazione alla Cadence of Hyrule, questo seguito spirituale dei Wario Land è quanto di più simile a un titolo Nintendo avremmo potuto sperare facesse la sua comparsa in un evento del genere. Per me si tratta di una chiusura apprezzatissima, soprattutto perché è già disponibile. Per quanto riguarda il Partner Showcase, possiamo dividere in tre blocchi distinti questa presentazione. Abbiamo innanzitutto le Collection, e qui sono state sparate delle bombette niente male, tra annunci nuovi di Zecca e trailer che invece hanno svelato la data di uscita di titoli precedentemente annunciati. Tetris è un classico senza tempo, e un concept geniale che funziona in qualsiasi declinazione. Questo Tetris Forever sembra un bundle perfetto per riscoprire le origini, anche quelle meno conosciute, di un fenomeno che tuttora è il puzzle game per eccellenza. Parlando di picchiature invece sono arrivati due missiloni paurosi. Capcom è scatenata, e mentre abbiamo scoperto che la Collection dei Marvel vs Capcom arriverà il 12 settembre con una versione fisica a seguire, mi sembra per novembre, non nascondo che mi sono proprio emozionato nello scoprire che a chiudere la Fighting Collection volume 2, prevista per il 2025, ci saranno i due Power Stone. Tra l'anime e le partitone su Dreamcast, questa IP è rappresentata una parte non indifferente della mia adolescenza. Konami invece porta avanti la sua opera di resurrezione del brand di Castlevania, con una nuova collection, questa volta dedicata alla trilogia dei titoli DS. Proprio come il trittico per GBA, per me queste raccolte hanno un valore storico non indifferente, considerato anche quanto sia costoso recuperare le versioni originali. Speriamo solo che l'edizione fisica non sia da pannaggio di limited run games, perché... perché so soldi. E poi è anche un po' la dimostrazione che volendo anche titoli concepiti su una console particolare come il DS, possono essere portati su hardware tradizionali a schermo singolo, basta solo un po' di impegno. Il secondo blocco invece è stato dedicato interamente ai JRPG, e qui c'è stato veramente di tutto, tanto che penso che questa sia stata una presentazione confezionata con il pubblico giapponese in mente. Abbiamo la data del ritorno dei primi due Suikoden, nuove immagini del bellissimo remake di Dragon Quest, il ritorno di serie storiche come Tales of, e roba un po' più di nicchia come The Legend of Heroes, Atelier e Rune Factory. Il terzo blocco invece per me è quello veramente disastroso, ed è rappresentato da quei porting o titoli in multiplattaforma che sì, fa piacere vedere su Switch, ma che arrivati a questo punto difficilmente riuscirei a consigliare di giocarli sulla piattaforma ibrida. Nel corso degli anni ho sempre apprezzato e promosso i cosiddetti porting impossibili, quei giochi che, nonostante tutti gli evidenti compromessi, era un po' una rivoluzione poterli giocare in portabilità. Arrivati oggi, nel 2024 inoltrato, non riesco a trovare lo stesso appeal verso porting come quello di Yakuza Kiwami, e i motivi sono molteplici. Si tratta di giochi arrivati ormai fuori tempo massimo, che probabilmente verranno venduti a prezzo pieno, o comunque a cifre più alte rispetto alle altre piattaforme, e che soffrono così tanto a livello tecnico, che più che dei porting miracolosi ormai sembrano dei veri e propri dei make. E se certi compromessi erano accettabili nel 2017, oggi il mercato è profondamente cambiato, e tutto quello che non è esclusiva Nintendo si può giocare in portabilità su un grande ventaglio di alternative, ammortizzando i costi senza dover per forza incidere così pesantemente su prestazioni e qualità grafica. Quindi per quanto l'arrivo di Yakuza sia un traguardo storico, ricordiamoci infatti che il producer della serie aveva affermato che la console fosse troppo family friendly per un titolo underground come Yakuza, non riesco a essere emozionato per una chiusura del genere. E vale lo stesso per il promettente Star Overdrive, per ora esclusiva console a tempo, per la versione PlayStation 1 di God Simulator, non saprei come definirla altrimenti, e anche per la collection degli Stalker o il bizzarro open world di SpongeBob con protagonista Patrick. Dando per scontato che la prossima console sia retrocompatibile, si tratta di tutte produzioni che spero girino in modo ottimizzato su una console in grado di essere al passo con i tempi. Comprarle ora su un hardware del 2017 per me è una forzatura. Per questo sono sempre più convinto che quest'evento sia stato anticipato per fare spazio al reveal di Switch 2, che diventerà il focus principale della campagna marketing di Nintendo da fine settembre o inizio ottobre fino ai primi mesi del prossimo anno. C'è stata roba interessante, ma la stagione di Switch è finita e un doppio appuntamento del genere non fa che confermare questo scenario. Se decontestualizzati, questi due appuntamenti sono stati molto sotto tono, ma prendete gli annunci interessanti, uniteli alla roadmap di titoli first party, previsti da qui fino a dicembre, e vi renderete conto che nonostante tutto Switch riuscirà a tirare avanti più che dignitosamente ancora per un bel po'. Solo non aspettatevi più nulla di che da una console che il soccorso l'ha fatto, e forse, ma questa è una mia opinione, non incazzatevi, sarebbe dovuta andare in pensione già qualche mese fa. E dai, ormai è palese, Silksong lo vedremo assieme al reveal di Switch 2, non credete? In questo paraccio è tutto per oggi, io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi ringrazio per essere stati in così tanti in live, eravamo quasi 900, un traguardo pazzesco per un evento minore, e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate delle due presentazioni del giorno. Non mi resta di darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Porion, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retrogame. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Rischio di evitazione in prossimo video Ahahahahahahahahahah